Made da Franco è una start-up innovativa, una realtà giovane e dinamica che ha deciso di guardare al passato per rivitalizzare l'artigianato pratese. Da questa realtà è nata l'idea di una rassegna di appuntamenti alla scoperta del territorio di Prato, visitando le botteghe artigiane ed esplorando angoli e luoghi della città, oltre le comuni met turistiche. Ecco nel dettaglio in cosa consiste. Visiteremo la bottega di un liutaio e poi fino ad arrivare alla dimostrazione di un concerto e quindi come lo strumento si suona all'associazione mesotonica. Ci sarà un percorso legato all'oro in bottega, quindi dal corniciaio e dora le cornici con una tecnica tradizionale, all'oreficeria e al pastificio Ferraboschi che farà un breve workshop di preparazione di pasta fresca. Poi ci sarà un appuntamento legato all'archeologia e quindi insieme ai laboratori archeologici San Gallo faranno un percorso guidato su quelli che sono i percorsi medievali del centro. Infine un appuntamento in bici, gli usciremo dal centro storico e in collaborazione con EcoPosta Prato prenderemo appunto la bicicletta e ci sposteremo lungo il Bisenzio a visitare delle botteghe artigiane. Tra le botteghe che faranno parte del tour anche quella di Andrea Merighi, orafo di Via Magnolfi. Si tratta di un progetto che mira sì alla promozione e conoscenza dell'artigianato ma guarda anche alla cultura e all'enogastronomia locale. Crediamo che Prato abbia una storia interessante dal punto di vista artigianale. Ci sono moltissime realtà che non sono conosciute e non sono visibili e fanno invece la storia della città e del Made in Italy. Non abbiamo niente da invidiare a Firenze.